In vista del congresso regionale del PD, a Caserta c'è stata una grossa convergenza sulla candidata assunta Tartaglione. Anche importanti esponenti che hanno appoggiato Vitale si sono schierati con la deputata del PD. Lei come legge questa scelta? Non è che tanti che hanno appoggiato Vitale adesso stanno appoggiando Tartaglione. C'è anche chi alle primarie nazionali ha sostenuto Cuperlo che in questo congresso regionale sosterrà Tartaglione. C'è un progetto renziano che in provincia di Caserta sta assumendo sempre più i contorni di un progetto maggioritario. C'è un'adesione all'area renziana che sta diventando sempre più vasta. Sicuramente per chi il progetto di Renzi lo ha sostenuto anche già dal congresso provinciale è sicuramente una vittoria. Secondo lei ci potranno essere sviluppi anche sul piano provinciale? Potrebbero saltare gli equilibri all'interno della maggioranza? Questo in verità non lo so. Per adesso pensiamo a vincere il congresso regionale che ci sarà domenica prossima e a far divenire la Tartaglione segretaria regionale di questo partito. Per quanto riguarda il livello provinciale io penso che più che cambiare gli equilibri rispetto all'ultimo congresso provinciale sia importante che questo partito inizi a fare politica e li inizi a fare in un modo completamente diverso da quello che è stato fatto fino ad oggi. Io speravo, nonostante non abbia vinto quel congresso, che Raffaele riuscisse ad imprimere quel cambio di rotta a questo partito che serve perché questo partito è sempre stato bloccato da quelle divisioni interne che non gli hanno mai permesso di essere una proposta politica forte per la provincia di Caserta. Mi rendo conto che in questi primi mesi non è stato fatto nulla per cambiare questo, anzi per quello che è successo rispetto ai congressi di circolo mi rendo conto che le divisioni interne sono aumentate e non c'è stato fino ad oggi quel cambio di passo che io mi aspettavo. Negli ultimi anni Caserta, il PD casertano, è sempre stato mortificato, non ha mai svolto un ruolo di primo piano sul piano regionale. Con l'eventuale vittoria della Tartaglione si riuscirà ad avere più visibilità? Per esempio è possibile, noi abbiamo scritto che potrebbe aspettare a Caserta il posto di vice segretario. Questa è una cosa che oggi non possiamo dire. Vediamo innanzitutto chi vincerà questo congresso. Io mi auguro che lo vinca Tartaglione il congresso, ma non è detto, anche se ci sono buone possibilità. Però penso che Caserta in questo congresso regionale debba avere un ruolo centrale in quelli che poi saranno gli assetti futuri del partito regionale. Ovviamente nel momento in cui dovessimo vincere con Tartaglione il congresso faremo sentire la nostra voce perché oggi la provincia di Caserta ha bisogno di avere propri rappresentanti, non per una questione di posti o di poltronne, ma perché c'è bisogno che i problemi di questa provincia vengano portati in tutte le sedi e a tutti i livelli istituzionali. In caso di un posto però da vice segretario lei sarebbe disponibile? No, no, assolutamente non è questo il punto dell'ordine del giorno, non è la mia posizione che è in gioco in questo congresso. Ho già avuto il piacere di essere candidato alla sede provinciale di questo partito. Vedremo se Caserta sarà protagonista di questa vicenda, quale sarà il ruolo e chi potrà al meglio rappresentarlo. A tre mesi dallo svolgimento del congresso provinciale del PD non sono stati ancora indicati i nomi dei componenti della direzione. Vitale dice che è colpa sua, lei dice che è colpa di Vitale. La verità qual è? Facciamo la cosa, non è colpa di nessuno. Prendiamo atto semplicemente di quello che è, che oggi c'è un ritardo inberdonabile rispetto all'elezione della direzione provinciale del partito. Ma al di là di chi sono le responsabilità, io ritengo non mie, Raffaele ritiene non sua, però c'è un partito oggi in provincia di Caserta che non ha la direzione politica del partito. Questo è un qualcosa che non può più accadere, non può più andare avanti il partito in questo modo perché è come se il partito fosse commissariato fondamentalmente. Quindi io mi auguro che nei prossimi giorni, immediatamente dopo il congresso regionale, ci sia finalmente questa direzione, l'elezione di questa direzione del PD della provincia di Caserta. Noi ovviamente siamo pronti, a Raffaele Vitale dettare i tempi a questo punto.